Ma cosa c'è? Proprio il limone che è fatto a prendere, l'entere è incoglionito proprio. E' assiderato cosa bella. Guarda che bella, sei con te che non ho dato serpenti. C'è una bella autarricciata. Qualche buco c'è? Bravissima. Io pensi che andrei e gli farei vedere i dati a lui. Però è pericoloso. Eh, un balinguante è una cosa che io vorremmo. Pericoloso perchè non avevano nemmeno sia ranteo fisico. La stai filmando, Maurizio? Tu vuoi mettervi in prospettiva e ti fanno la formata a tua vita? No, 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 no. A me lo serve di interesse. E' una vipera. Si, ora quel buco se ne metto. Quale buco? Una vipera, intanto, una vipera. Io non ne avevo mai viste. Sì, ma... Da 40 anni, solamente il catenario non viste. Mai viste il catenario. Stai ghiacciando la vipera. Occhio. Quando si ferma è pericoloso. No, ma no, no, no. E' un po' di coltà. E' un po' di coltà? Si, vabbè. E' un po' di coltà. Si, vuoi metterla a te. Si, vuoi carica la capuzza. Si, ma vorrei capire dove non è scevo chissà. Dove te l'ha detto. Ah, che? E' un po' di coltà. 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 Dio, no. E' un po' di coltà, ma pur questo regalo ci hanno fatto a vedere questo servente. Sì. Ma senti via. Ciao, ciao. Fino ai ruoti davo uno scuro Guarda, guarda da qua che meraviglioso, adesso sta correndo sul muro Vediamo Non dire che se eri... non lo so se la vedo Qua non riesco a prenderla Sta capendo che è alto? No, scendo, scendo Guarda, vedo, salire Occhio che ritorni indietro Si, si, lo guardo da da dove Stacca, davis